La scommessa, Tsekov. Era una buia notte d'autunno. Il vecchio banchiere camminava da un angolo all'altro del suo studio e ricordava la serata che aveva dato 15 anni addietro in autunno. A quella serata c'erano molte persone intelligenti e si erano svolte conversazioni interessanti. Tra l'altro si era parlato della pena capitale. Gli ospiti, fra cui non pochi scienziati e giornalisti, erano per la maggior parte contrari alla pena capitale. Ritenevano che questa forma di punizione fosse antiquata, inadeguata agli stati cristiani e immorale. Secondo alcuni di essi, la pena capitale sarebbe dovuta essere sostituita ovunque con la reclusione a vita. Non sono d'accordo con voi, disse il padrone di casa e il banchiere. Io non ho provato né la pena capitale né la reclusione a vita, ma se è possibile giudicare a priori, secondo me la pena capitale è più morale e più umana della reclusione. La pena capitale uccide subito, mentre la reclusione a vita uccide lentamente. Quale aguzzino è più umano? Quello che vi uccide in pochi minuti, oppure quello che vi sottrae la vita nel corso di molti anni? Sia l'uno che l'altro sono ugualmente immorali, notò uno degli ospiti, perché hanno lo stesso scopo, togliere la vita. Lo Stato non è Dio, esso non possede il diritto di sottrarre ciò che non potrebbe restituire se lo volesse. Tra gli ospiti si trovava un avvocato, un giovane sui 25 anni. Quando chiesero la sua opinione gli disse, sia la pena capitale sia la reclusione a vita sono ugualmente immorali, ma se mi proponessero di scegliere fra la pena capitale e la reclusione a vita, sceglierei ovviamente la seconda. Meglio vivere in qualche modo che in nessuno. Nacque una discussione animata. Il banchiere, che allora era più giovane e più nervoso, perse improvvisamente il controllo di sé, picchiò il pugno sul tavolo e gridò, rivolgendosi al giovane avvocato. Non è vero. Scommetto due milioni che voi in prigione non resistereste neanche cinque anni. Se parlate seriamente, gli rispose l'avvocato, scommetto che ci resterò non cinque, ma quindici anni. Quindici? D'accordo, urlò il banchiere. Signori, io scommetto due milioni. D'accordo, voi scommettete due milioni e io la mia libertà, concordò l'avvocato. E questa assurda insensata scommessa ebbe luogo. Il banchiere, che allora non conosceva il totale dei suoi averi, viziato e superficiale, era entusiasta della scommessa. Durante la cena prendeva in giro l'avvocato e diceva, ravvedetevi, giovanotto, prima che sia troppo tardi. Per me due milioni rappresentano un'inezia, ma voi rischiate di perdere tre, quattro degli anni migliori della vostra vita. Dico tre, quattro anni, perché non resisterete più a lungo. Non dimenticate inoltre, oh misero, che la reclusione volontaria è molto più dura di quella forzata. Il pensiero che in qualsiasi momento avete il diritto di uscire in libertà avvelenerà tutta la vostra esistenza in prigione. Mi fate pena. Ora il banchiere, camminando avanti e indietro, ricordava tutto ciò e si domandava, a che serviva questa scommessa? Che giovamento viene dal fatto che l'avvocato perda 15 anni della sua vita o che gli oggetti due milioni? Può questo dimostrare alla gente che la pena capitale è peggiore o migliore della reclusione a vita? No e poi no. È un'assurdità, è un non senso. Da parte mia è stato un capriccio di un uomo sazio e da parte dell'avvocato semplice brama di soldi. E poi ricordò che cosa accadde dopo la serata descritta. Fu deciso che l'avvocato avrebbe trascorso la sua reclusione sotto severissima sorveglianza in una delle dipendenze costruite nel giardino del banchiere. Avevano convenuto che nel corso dei 15 anni sarebbe stato privato del diritto di varcare la soglia della dipendenza, di vedere persone vive, di ascoltare voci umane e di ricevere lettere e giornali. Gli era concesso avere uno strumento musicale, leggere libri, scrivere lettere, bere vino e fumare tabacco. Con il mondo esterno, secondo gli accordi, non poteva comunicare se non in silenzio, attraverso la piccola finestra costruita appositamente. Tutto ciò di cui aveva bisogno, libri, note, vino e altro, poteva riceverlo dietro richiesta scritta nella quantità desiderata, ma solo attraverso la finestra. L'accordo contemplava tutti i particolari e le minuzie atti a rendere la reclusione severamente solitaria e obbligava l'avvocato a restare in reclusione esattamente 15 anni, dalle ore 12 del 14 novembre 1870 sino alle ore 12 del 14 novembre 1885. Il minimo tentativo da parte dell'avvocato di violare le condizioni, anche solo due minuti prima del termine, avrebbe svincolato il banchiere dall'obbligo di pagargli i due milioni. Il primo anno di reclusione, l'avvocato, per quanto si potesse giudicare dai suoi brevi biglietti, soffrì fortemente di solitudine e di noia. Dalla sua dipendenza giorno e notte si sentiva suonare in continuazione il pianoforte. Rifiutava il vino e il tabacco. Il vino, scriveva, eccitava i desideri e i desideri sono i primi nemici del carcerato. Inoltre non c'è niente di più noioso che bere del buon vino e non vedere nessuno e il tabacco avrebbe guastato l'aria della sua stanza. Il primo anno inviavano all'avvocato libri prevalentemente di contenuto leggero, romanzi del complicato intreccio amoroso, racconti polizieschi e fantastici, commedie e così via. Il secondo anno la musica nella dipendenza cessò e nei biglietti l'avvocato richiedeva solo i classici. Il quinto anno si sentì nuovamente la musica e il carcerato chiese del vino. Coloro che lo sorvegliavano attraverso la finestra dicevano che in tutto quell'anno egli non aveva fatto altro che mangiare, bere e star coricato sul letto, sbadigliare spesso, parlare arrabbiato con se stesso. I libri non li leggeva. Talvolta di notte si sedeva a scrivere. Scriveva a lungo e verso mattino faceva a pezzetti tutto ciò che aveva scritto. Più di una volta lo sentirono piangere. Nella seconda metà del sesto anno il carcerato si diede allo studio assiduo delle lingue, della filosofia e della storia. Si dedicò avidamente a queste scienze, tanto che il banchiere faceva malapena a tempo a ordinargli i libri. In quattro anni furono ordinati di sua richiesta circa 600 volumi. Nel periodo di questa passione il banchiere tra l'altro ricevete dal suo carcerato questa lettera. Mio caro carceriere, vi scrivo queste righe in sei lingue. Mostratele alle persone competenti. Che le leggano. Se non vi troveranno nemmeno un errore ve ne supplico. Ordinate di sparare in giardino un colpo di fucile. Questo sparo mi dirà che i miei sforzi non sono stati vani. I geni di tutti i tempi e di tutti i paesi parlano in lingue diverse, ma in tutti loro brucia la stessa fiamma. Oh, se sapeste che gioia celestiale prova ora il mio cuore perché sono capace di comprenderli. Il desiderio del carcerato fu esaudito. Il banchiere ordinò di sparare in giardino due volte. In seguito, dopo il decimo anno, l'avvocato sedeva immobile al tavolo e leggeva soltanto il Vangelo. Al banchiere pareva strano che una persona che in quattro anni aveva letto 600 libri complicati avesse perso quasi un anno a leggere un solo libro comprensibile e non voluminoso. In sostituzione del Vangelo fecero seguito la storia delle religioni e la teologia. Negli ultimi due anni di reclusione il carcerato lesse una quantità straordinaria di libri senza alcuna preferenza. Ora si occupava di scienze naturali, ora chiedeva Byron oppure Shakespeare. Capitava di ricevere da lui biglietti in cui chiedeva di inviargli allo stesso tempo opere di chimica, un manuale di medicina, un romanzo e qualche trattato di filosofia o di teologia. La sua lettura somigliava all'atteggiamento di qualcuno che nuota in mare tra rottami di una barca e desiderando salvarsi la vita si aggrappa bravosamente ora a un rottame ora a un altro. Il vecchio banchiere ricordava tutto ciò e pensava domani alle ore 12 riacquisterà la libertà, secondo gli accordi dovrò pagargli due milioni, se li pagherò tutto sarà perduto, sarò definitivamente rovinato. 15 anni addietro egli non sapeva l'ammontare dei suoi averi, ora invece temeva di chiedersi che cosa avesse di più, denaro oppure debiti. Il gioco azzardato in borsa, le speculazioni arrischiate e l'impetuosità alla quale non riusciva a rinunciare nemmeno in vecchiaia, poco per volta avevano portato i suoi affari alla rovina e il riccone impassibile presuntuoso, orgoglioso, si era trasformato in un banchiere di mezzo calibro che palpitava per ogni rialzo o ribasso dei titoli. Maledetta scommessa borbottava il vecchio prendendosi disperato la testa fra le mani. Perché non è morto? Ha solo 40 anni, mi prenderà gli ultimi soldi, si sposerà, si godrà la vita, giocherà in borsa mentre io come un mendicante starò a guardare con invidia e ogni giorno ascolterò da lui la stessa frase. Vi devo la felicità della mia vita, permettetemi di aiutarvi. No, questo è troppo. L'unica salvezza dalla bancarotta e dalla vergogna è la morte di quest'uomo. Scoccarono le tre, il banchiere stette in ascolto, in casa dormivano tutti e in giardino si sentiva soltanto il fruscio degli alberi infreddoliti. Cercando di non fare rumore, prese dalla cassaforte la chiave della porta che in 15 anni non era mai stata aperta. Indossò il cappotto e uscì di casa. Il giardino era buio e faceva freddo. Pioveva. Un vento penetrante e umido correva ululando in tutto il giardino e non dava tregua agli alberi. Il banchiere aguzzò la vista ma non riuscì a vedere né la terra né le statue bianche né la dipendenza né gli alberi. Avvicinandosi alla dipendenza chiamò due volte la guardia. Non seguì alcuna risposta. Evidentemente la guardia aveva trovato riparo dal maltempo e ora stavo dormendo chissà dove, in cucina o nella serra. Se avrò il coraggio di attuare il mio piano, pensò il vecchio, il sospetto cadrà prima di tutto sulla guardia. Nelle tenebre tastò i gradini e la porta ed entrò nell'anticamera della dipendenza. Poi a tastoni entrò nel piccolo corridoio e accese un fiammifero. Qui non c'era anima viva. C'era un letto senza biancheria e in un angolo ombreggiava una stufa di ghisa. I sigilli, sulla porta che introduceva alla stanza del carcerato, erano intatti. Quando il fiammifero si spense, il vecchio, tremando per l'agitazione, gettò uno sguardo nella piccola finestra. Nella stanza del carcerato a una candela mandava una luce fioca. L'uomo era seduto al tavolo. Se ne vedevano solo la schiena, i capelli e le mani. Sul tavolo, su due poltrone e sul tappeto vicino al tavolo, giacevano dei libri aperti. Trascorsero cinque minuti e il carcerato non si mosse nemmeno una volta. La quindicennale reclusione gli aveva insegnato a star seduto immobile. Il banchiere bussò con il dito alla finestra e il carcerato non rispose a questo bussare nemmeno con un movimento. Allora il banchiere, con cautela, staccò i sigilli dalla porta e introdusse la chiave nel buco della serratura. La serratura arrugginita emise un suono rauco e la porta scricchiolò. Il banchiere si aspettava di udire subito un grido di stupore e dei passi, ma trascorsero tre minuti e dietro la porta tutto era tranquillo come prima. Si decise a entrare nella stanza. Al tavolo, immobile, era seduto un uomo che non somigliava alle persone comuni. Era uno scheletro rivestito di pelle, con lunghi rizzoli da donna e la barba arruffata. Il colore del suo viso era giallo, con una sfumatura terrea, le guance infossate, la schiena lunga e stretta e la mano, che sosteneva la testa capelluta, era talmente sottile e magra che faceva impressione a guardarla. Nei capelli brillava già come argento la canizia e osservando il volto emaciato da vecchio, nessuno avrebbe creduto che egli avesse solo quarant'anni. Stava dormendo. Sul tavolo davanti alla sua testa, china, stava un foglio di carta, sul quale era scritto qualcosa con una scrittura minuta. Pover uomo, pensò il banchiere, dorme e probabilmente sogna ai milioni. Ma basterebbe solo prendere questo semicadavere, buttarlo sul letto, soffocarlo appena con il guanciale e l'aperizia più scrupolosa non troverebbe alcun segno di morte violenta. Comunque leggiamo prima che cosa ha scritto qui. Il banchiere prese il foglio dal tavolo e lesse ciò che segue. Domani alle ore 12 sarò messo in libertà e mi sarà dato il diritto di comunicare con le persone. Ma prima di lasciare questa stanza e di vedere il sole, ritengo necessario dirvi alcune parole. Per avere la coscienza pulita e davanti a Dio che mi vede, vi comunico che io disprezzo sia la libertà, sia la vita, sia la salute, sia tutte le cose che nei vostri libri sono definite i beni del mondo. Per 15 anni ho studiato attentamente la vita terrestre. È vero, non vedevo nella terra, negli uomini, ma nei vostri libri bevevo vino aromatico, cantavo canzoni, cacciavo i cervi e i chiali selvatici nei boschi. Amavo le donne. Le belle donne, eteree come nuvole, create dalla magia dei vostri geniali poeti, mi facevano visita di notte e mi mormoravano fiabe meravigliose che inebriavano la mia testa. Nei vostri libri mi arrampicavo sulle cime dell'Elborus e del Monte Bianco e da là la mattina vedevo sorgere il sole e la sera lo vedevo inondare il cielo, l'oceano e le cime montuose di oro purpureo. Di là vedevo i lampi balenare sopra di me, fendendo le nubi. Vedevo i vertiboschi, i campi, i fiumi, i laghi, le città. Sentivo il canto delle sirene e il suono delle siringhe dei pastori. Sentivo le ali di magnifici diavoli che volavano da me a discorrere di Dio. Nei vostri libri mi gettavo in abissi senza fondo, operavo miracoli, uccidevo, incendiavo le città, predicavo nuove religioni, conquistavo regni interi. I vostri libri mi diedero la saggezza. Tutto ciò che nel corso dei secoli l'inappagabile pensiero umano ha creato è serrato nel mio cervello in una piccola palla. Io so di essere più intelligente di voi tutti. E io disprezzo i vostri libri, disprezzo tutti i beni del mondo e la saggezza. Tutto è inconsistente, effimero, diafano e illusorio come un miraggio. Siate pure orgogliosi, saggi e stupendi. Ma la morte vi spazzerà dalla faccia della terra allo stesso modo dei topi del sottosuolo. E la vostra progenie, la storia, l'immortalità dei vostri geni, geleranno o bruceranno assieme al globo terrestre. Voi avete perso la ragione e non seguite la via giusta. Scambiate la menzogna per verità e la deformità per bellezza. Vi stupireste se in seguito a qualche particolare circostanza sui meli e sugli aranci all'improvviso crescessero rane e lucertole invece dei frutti. Oppure se le rose emanassero odore di cavalli sudati. Così io mi stupisco di voi che avete barattato il cielo con la terra. Io non voglio capirvi. Per dimostrarvi con i fatti il disprezzo verso ciò di cui vivete, rinuncio ai due milioni che un tempo sognavo come si sogna il paradiso e che ora disprezzo. Per privarmi del diritto a essi uscirò di qui cinque ore prima del termine concordato e in tal modo violerò l'accordo. Letto questo il banchiere depose il foglio sul tavolo, baciò sulla testa lo strano individuo, si mise a piangere e uscì dalla dipendenza. In nessun altro momento, nemmeno dopo forti perdite in borsa, aveva mai provato un tale disprezzo per se stesso come ora. Giunto a casa si colicò sul letto ma la commozione e le lacrime a lungo non gli permisero di prendere sonno. Il giorno successivo, la mattina, i guardiani pallidi corsero a informarlo di aver visto l'uomo che viveva nella dipendenza passare attraverso la finestra e uscire in giardino, avviarsi verso il portone e poi sparire chissà dove. Assieme alla servitù il banchiere si recò immediatamente alla dipendenza e si accertò della fuga del suo carcerato. Per non suscitare voci inutili, prese dal tavolo il foglio della rinuncia e, tornato in camera sua, lo chiuse nella cassaforte.